2, prego avvicinarsi però manca il quarto, Paragallo, dov'è? arriva, arriva il dottor Paragallo è scappato paragallo è il momento che non può competere con noi eccolo pronto a competere con noi esatto, allora facciamo i miei contributi ah, una foto, si chiede una foto una foto chiedono una foto papà, chiamavano il papà lascia papà una formula inusuale che non è mai stata fatta da nessuno in pedale e non sarà mai più fatta da nessuno comunque una volta si farà e poi basta, fine stanno preparando la tattica stanno preparando la zona tattica contro 4, Presidente ci dica cosa veramente tutti contro tutti chi vuole salire, chi è no? tutti contro tutti, ci proviamo Renzo Piccati accettano scommesse per i bianchi o per i neri? per chi ti fate? bianchi e neri? neri! bianchi? neri! e me la mano dice qualcuno dai bianchi! bello è bianchi! allora bianchi! vi permettete di arbitro io per l'occasione e io ti chiedono di arbitrare dall'altra parte siccome voi fate tutte le cose strane la faccio anche io strana bene allora qui però è pericolosissimo maestro noi ti vorremmo nei prossimi cento anni capisci? è pericolosissimo allora pronti? ma perché mi chiedi di fare da quella parte? logicamente io non darò l'altro loro si daranno una gragnola di colpi e poi a mano per eliminazione a mano che li vedete a terra pronti? però serve grandi applausi e grande a voi anche agli altri a voi anche Maffei e Kic forza toccato il grande paragrafo accusa la grande stoccazza penso alla fine dovrei segnare le stoccavate bene ricordati a segnare le stoccavate allora siamo siamo due pericolosi siamo due a zero per i neri forza da poco si fanno anche male bellissimo bravissimi allora ho contato tutto siamo sette pari sette pari si arriva a dieci forza forza ancora ultima stocchiata perfetto fantastici dieci pari le ho portate tutte le due complimenti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti